Scusi signor, non fossi freddo, ci vuole raccontare che se questa sera qualche ragazza accettasse lei vorrebbe raccontarci che cosa ha a te, vorrebbe raccontarci, scusate, scusate, per un momento molto soft e chiedo delle luci rosse, 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 rosso sottola, grazie, ecco, benissimo, allora, aspetta, 1-4-4, chiamano. Allora, dimmi che cosa mi faresti questa sera? Allora, adesso, ho vincito il talento, io in corretta, e questo è il talento. grazie